5, 4, 3, 2, 1 2, 1, vai 100 Sinistra 6 50 Di nuovo destra 6 E sinistra 6 E destra 5 vai Per sinistra 6 50 Stai a sinistra per il destra 3 tieni Sconnesso 30 Sconnesso occhio A sinistra 2 tieni molto, sì Destra 4, sinistra 4 vai sudosso 30 Destra 4 sì, sporca Diventa un 3 E sinistra 3, sporca 150 Stai a sinistra per il destra 4 Piena no E sinistra 6 vai In destra 6 50 Sinistra 6 vai sudosso 50 Sconnessi E sinistra 6, sì E destra 5 E tranquillo Sinistra 4 Per destra 5 pieno E 80 Destra 6 100 Sinistra 4 no, tieni sudosso E 80 Su ponte Destra 6 pieno 150 Sinistra 6 100 Scicanna entra a destra 80 6 a destra Per il sinistra 4 vai Sinistra 4 vai Attenzione al destra 4 si piena al palo O apre 80 E destra 6 Per sinistra 6 80 E destra 6 al palo E di nuovo 80 per sinistra 4 si Sporca tieni molto Apre 200 Sinistra 5 piena Per destra 6 piena compressione Compressione 200 Sconnesso Per il sinistra 5 due tempi Attenzione a destra 5 Sporco E poi occhio Stacca sul sinistra 2 Gira No Sì in uscita Sì in uscita Per il destra 5 Chiude 4 si E apre 50 Attenzione stacca sul destra 2 Gira No Gira No In sinistra 5 E destra 6 ai viri E sinistra 4 in traiettoria Per di nuovo sinistra 4 in traiettoria Apre 150 A vista E sinistra 4 due tempi Chiude il treno Chiude il treno Per destra 5 Vai Apre 50 E sinistra 5 piena In destra 4 2 tempi 4 due tempi E sinistra 4 Tieni Tieni 50 Sinistra 5 vai Per il destra 6 Vai a rail In sinistra 5 vai 50 Per il destra 4 Chiude 3 Si sporca Aggancia No scusa Scende 150 La casa Stai a destra Per il destra 4 No Al palo E sinistra 4 lunga 80 Destra 6 Piena la casa 150 In traiettoria Per il destra 4 No No 200 Destra 6 Velocissima E 350 A vista Occhio sconnesso Stacca prima del dosto Per il sinistra 3 tieni molto Si sporco E aggancia Apre 60 Attenzione A destra 2 gira Destra 2 gira Aggancia Per sinistra 4 Tieni Sinistra 4 Tieni 60 Attenzione Poi a sinistra 3 Due tempi 3 Due tempi Apre alla casa Per il destra 6 Pieno Sconnesso Stai a sinistra Per il destra 4 Destra 4 50 Attenzione Traiettoria Destra 6 80 Stacca per il Sinistra 4 In traiettoria Apre 200 Sinistra 6 Piena 300 Chicane Stacca Entra destra 50 Accenno destro Pieno Di nuovo 50 Destra 6 Vai In sinistra 4 Pieno Tieni 250 250 E accenno destro Accenno destro Per il sinistra 6 Molto lunga Sinistra 6 Molto lunga 500 per fine Bravo Maio Maio E Maio Grazie a tutti.